Abbiamo esplorato un nuovo mondo, abbiamo incontrato nuovi amici, abbiamo combattuto battaglie, abbiamo scalato la vetta col sudore sulla fronte e poi siamo diventati battlers, sempre pronti a lottare e a sfidarne altri, con la voglia di vincere e la fame di conoscenza, prossimamente noi battlers come voi in un epico torneo mai visto nella storia di YouTube Italia. Grazie per la visione!